Un appareggio in trasferta al debutto lo avrebbero sottoscritto in tanti, ma se il Gela avesse conquistato ieri la vittoria, nessuno avrebbe avuto da ridire. Sì, perché i biancazzurri sul terreno di gioco del Pomigliano hanno avuto le loro buone occasioni per portare a casa tre punti e solo la mancanza di lucidità sottoporta non ha consentito di brindare al successo. Un Gela che si è presentato reduce da giorni difficilissimi, con una crisi societaria da paura e con un cambio repentino dell'allenatore a poche ore dalla partenza per la campagna. Nonostante tutto e tutti la squadra di Pietro Infantino poteva vincere, ma come si dice in questi casi, un punto è per giunta in trasferta, va sempre bene. Proprio a pochi minuti dalla fine della gara l'attaccante Maurizio Nassi ha avuto sul suo piede la palla golla, ma non ha centrato il bersaglio pieno. Approccio alla gara perfetto dei Gelesi, al sedicesimo poteva starci un fallo da rigore su Alma, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. E subito dopo è arrivato il gol campano. A realizzarlo è stato Moraci direttamente su calcio di punizione. Ma i biancazzurri, sostenuti da una volta rappresentanza dei tifosi, hanno avuto il predominio del campo. È mancata solo la rete nella prima frazione di gioco. La ripresa si apre con un'azione del Pomigliano. Sarà l'unica, perché da quel momento è solo Gela. Ci provano in tanti a gonfiare la rete di Di Costanzo, ma nulla. C'è anche un gol annullato al Gela per un presunto fallo di Nassi sul portiere. Ma il gol è nell'aria. Al trentanovesimo Pisano viene atterrato in area di rigore. Questa volta è penalty tutta la vita. Si incarica dalla battuta il difensore Fabio Campanaro. Esecuzione impeccabile, uno a uno. Mancano poco meno di sei minuti alla fine della partita. E proprio in zona Cesarini potrebbe arrivare il colpaccio, ma il tiro di Nassi finisce alto. Uno a uno. Un buon punto conquistato con grande spirito di sacrificio. Un punto che fa morale e soprattutto classifica. Domenica si ritorna in campo. Si giocherà sicuramente al Dino Liotta delicata, vista l'indisponibilità del Presti. Il Gela ospiterà il Sersale, che ieri è stato battuto a domicilio per 3-1 dal Gladiator.